Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un video in cui devo dare una breve spiegazione. Vi ricordate l'ultimo video che ho fatto in cui accennavo alcune parole tratte da questo volumetto La guerra nel deserto di Emil Krieg? Ok, allora, io avevo spiegato che Rommel, come scritto nelle pagine di questo libro Rommel era un generale di prima linea, Rommel stava sempre in mezzo ai suoi soldati Rommel era adorato dai suoi soldati perché stava sempre in mezzo a loro era con loro in prima linea, condivideva con loro il rancio, condivideva con loro le difficoltà della prima linea Ok, al contempo però ho anche spiegato però le considerazioni sul suo conto fatte da Ettore Bastico ovvero sia che se un uomo, cioè se un ufficiale tedesco, se un generale italiano avesse fatto le stesse cose che faceva Rommel andando continuamente dal Führer o da Mussolini per far valere le proprie ragioni, le proprie considerazioni se un generale italiano avesse fatto una cosa simile, secondo il generale Ettore Bastico quel generale italiano sarebbe stato accusato di insubordinazione, di abbandono del posto di comando e di funga di fronte al nemico uno dei commenti ha detto ma scusa perché questa contraddizione? è presto detto e lo spiegavo bene anche nel video cioè Rommel aveva questa, come dire, aveva il brutto carattere la mania di protagonismo, l'ambizione e le ambiguità di un uomo estremamente ambizioso, di un avventuriero molto spregiudicato non stiamo a girarci attorno e questo lo spingeva sì a stare a fianco ai soldati ma lo spingeva anche ad avere pessimi rapporti con i suoi superiori gerarchici nella fattispecie Kesselring nella fattispecie il suo teorico pari grado o addirittura superiore Ettore Bastico nella fattispecie buona parte dell'obercomando del Wehrmacht Jodl, Keitel, Halder non lo poteva vedere nessuno Rommel era detestato da tutti uomo dal brutto carattere, uomo dal pessimo carattere uomo che non si vergognava ed è qui che punta il dito bastico uomo che non si vergognava di andare direttamente o dal Führer o dal Duce a sfruttare il canale preferenziale che aveva con loro abbandonando spesso e volentieri il posto di comando per andare a conferire direttamente o col Führer o con il Duce è questo che voleva intendere Bastico e questo anche che volevo intendere io ovvero sia che ovvero sia che sì, Rommel era un generale che stava sempre in prima linea con i suoi uomini che volava sul campo di battaglia che con la sua auto addirittura a volte era finito addirittura in territorio nemico sì, ma era anche lo stesso generale che in momenti di difficoltà che in momenti di contrasto con i suoi superiori gerarchici con i suoi superiori o con i suoi comandanti di teatro vedi soprattutto Kesselring vedi anche, ripeto, Bastico non si vergognava a mollare tutto e ad andare o a Roma o in Germania per parlare direttamente con chi? con il Führer o con il Duce e avere quindi ragione è questo che intendevo è questo che forse non ho spiegato bene nel mio precedente video non è una contraddizione è proprio un aspetto tipico del personaggio Rommel dell'uomo che era Rommel sì, il tattico geniale l'ottimo comandante di corpo d'armata il geniale comandante di corpo d'armata lo spregiudicato e abile signore della tattica perché non stiamo a girarci attorno Rommel era un genio della tattica ma difettando completamente della visione strategica che avevano Bastico o Kesselring Rommel sfruttava il suo carisma la sua personalità la sua popolarità la sua indubbia abilità nell'autopropagandarsi sfruttava anche il suo rapporto personale e privilegiato col Duce e con il Führer per avere ragione per dire ho detto voglio che sia fatto come dico io scavalcando Kesselring scavalcando l'OKV scavalcando completamente i comandi italiani comandi italiani dei quali sappiamo benissimo che Rommel non aveva la benché minima stima non del tutto a torto però oggettivamente oggettivamente a lungo andare Rommel si dovette accorgere che gli italiani non erano così scarsi come pensava e come diceva lui che Bastico su certe cose aveva ragione ripeto ripeto le due cose non sono in contraddizione il generale sempre in prima linea a fianco dei suoi uomini ma anche il comandante che abbandona il suo posto per andare a conferire direttamente con i capi di stato Mussolini e Hitler per avere ragione e favorire quindi il proprio punto di vista e quindi promuovere la propria carriera promuovere le proprie idee per quanto bislacche balzane o folli cosa dire? io spero di avere chiarito questa piccola apparente contraddizione mi sembrava di averle spiegata bene ma oggettivamente per evitare fraintendimenti penso ho pensato di fare questo breve video per spiegare questa apparente contraddizione il generale sempre in prima linea con i suoi uomini il generale che va sul campo di battaglia ma che al contempo non si vergogna di abbandonare il campo di battaglia di correre a conferire o col Führer o col Duce pur di avere ragione pur di far valere le sue idee che sappiamo essere state a volte disastrose e avventate tutto qua quindi cari signori io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione vi mando un abbraccio fortissimo come sempre commentate qua sotto fatemi sapere che cosa ne pensate esprimete senza problemi le vostre opinioni e come sempre come al solito più di sempre e più del solito un abbraccio enorme e soprattutto ciao